Cresce l'export a retino nel primo trimestre del 2022 dell'8,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. A trainare le esportazioni, l'oreficeria registra invece una battuta d'arresto, il comparto moda. Questo quanto emerge dai dati provvisori pubblicati dall'Istat. L'export a retino, anche nel periodo gennaio-marzo 2022, fa segnare un risultato positivo, commenta Massimo Guasconi, presidente della Camera di Commercio di Arezzo e Siena, con una crescita però inferiore rispetto al risultato medio-regionale. Ancora una volta, sono i metalli preziosi la principale voce dell'export a retino ad influenzare l'andamento complessivo. Nel primo quarto del 2022, le esportazioni si sono attestate a poco meno di 1,2 miliardi di euro, in flessione del 2,7 rispetto al 2021. Si conferma, anche per questo trimestre, l'inversa correlazione esistente tra l'andamento delle esportazioni dell'oreficeria e quelle dei metalli preziosi, sottolinea però il segretario generale della Camera di Commercio di Arezzo e Siena, Marco Randellini. Il comparto gemello della gioielleria e oreficeria ha registrato infatti un andamento di segno contrario rispetto ai metalli preziosi, che sono aumentate del 31%, attestandosi ad oltre 730 milioni di euro. I principali mercati di riferimento dell'ex portografo a retino rispetto al 2021 sono tutti in crescita, escluso quello più importante, gli Emirati Arabi, che fanno registrare una lieve contrazione del 2%. Tra le tipologie merceologiche, prosegue Marco Randellini, risultano in crescita agricoltura, bevande, legno, prodotti chimici, prodotti farmaceutici, ma anche articoli in gomme, materie plastiche, prodotti in metallo, elettroniche, elettromedicale, apparecchiature mediche, macchinari, autoveicoli e mezze di trasporto ed infine mobili. In flessione invece prodotti alimentari, prodotti della lavorazione dei metalli non metalliferi e prodotti dell'attività di trattamento rifiuti ed infine il terzo pilastro del nostro export, la moda. Questo comparto nel primo trimestre del 2022 presenta infatti una sensibile battuta d'arresto che interessa un po' tutte le specializzazioni produttive dall'abbigliamento alla pelletteria e alle calzature in crescita solamente il tessile.